Come amministrazione comunale sai che finché non viene messa la prima pietra purtroppo bisogna stare con i piedi per terra, però siamo a un passo importante. Per ora c'è solo il rendering, come si dice oggi, vale a dire una sorta di immagine fotografica realizzata col computer, ma il progetto per il nuovo stadio di Padova, secondo il comune, la società è già ben avviato e potrebbe vedere la luce in pochi anni. 16.500 posti a sedere per un costo tra i 60 e i 70 milioni di euro con possibile conclusione dei lavori per la stagione 2021-2022. Mi pare è già un annetto che ci stiamo parlando, ragionando attorno a questo progetto, per cui diciamo un'idea di massima c'è su quello che potrebbero essere i costi e i ricavi. Adesso però dobbiamo formalizzarli, perché un conto che una persona mi dica sì, io ci sono, è un conto che me lo scriva su un pezzo di carta e me lo firmi. Ecco, per cui diciamo, questo adesso quando ne dico passiamo nella seconda fase, è quello di cominciare a mettere assieme i numeri, le persone, con degli impegni ben presidi. Dopo neanche 30 anni di attività il vecchio stadio Euganeo potrebbe presto essere demolito per lasciare il posto a ciò che viene definito una piastra sportiva polifunzionale. Diversi campi da calcio e un centro di medicina sportiva aperti ai padovani, il settore giovanile del calcio Padova, un ristorante, un albergo e altro ancora. Ma a Padova-Est potrebbe sorgere anche un'arena della musica. Qui stiamo discutendo di aree comunali, con investimenti di privati su aree comunali. Quindi c'è una strada sicuramente da seguire, che ce l'ha detta le norme attuative del nostro comune, ma sono aree nostre, quindi possiamo disporne come e quando vogliamo. I cantieri del Luganeo potrebbero aprirsi nel maggio del 2020 con l'abbattimento della Tribuna Nord e di una parte della Tribuna Ovest. Il Padova potrebbe continuare così a disputare qui gli incontri casalinghi. La seconda annata porterebbe alla conclusione dei lavori.